Ogni tanto per i nuovi iscritti sia alla pagina Facebook che al sito facciamo un po' un riepilogo della situazione. Le pagine a nostra disposizione che Busto Web ha creato sono prima di tutto il sito che diciamolo subito si presenta abbastanza pesante, non è adatto per la pubblicazione di video. Presto spero si cambierà un attimino la possibilità di disporre di un sito adeguato ma per il momento andiamo avanti con questo. La parte forse più interessante comunque voglio segnalare è la pagina video attraverso la quale potete vedere tutti i video sulla città che sono numerosi e quindi così diciamo tenervi informati sulla città di Busto Assizio. Adesso non lo apro perché sarebbe veramente molto lento, anche il computer è abbastanza lento. Poi abbiamo alcune pagine in Facebook, ecco scusate i tempi di apertura ma come dicevo il computer che sto utilizzando non è sicuramente dell'ultima generazione. Ecco abbiamo questa pagina che si chiama Busto Città Poco Tecnologica, il nome stesso penso da già un'idea, è proprio dedicato alla città di Busto visto che Busto e la tecnologia pare non abbiano niente a che fare, insomma è sicuramente un argomento completamente trascurato dall'amministrazione e noi ci sforziamo di far capire l'importanza di tutti gli aspetti tecnologici magari prendendo spunto anche da altre città che adottano sistemi sicuramente validi. Poi abbiamo la pagina principale si chiama Giorgio Tosi Busto Web che avrei voluto chiamare solo Busto Web ma cambiare il nome in Facebook è veramente un'impresa, è veramente dura e quindi ho dovuto mantenere questo. Comunque è semplice ricordare per chi ha problemi di spazio quindi ha un computer abbastanza vecchio e quindi non può passare nella visione dei video dal sito principale che vi ho detto prima che non è particolarmente adatto vi consiglio di andare sulla pagina Facebook dove i video che sono sempre numerosi si aprono più velocemente. Poi abbiamo una pagina a cui sono molto affezionato si chiama Startup Italiane Tecnologia. Le Startup come sapete sono un po' l'argomento del momento visto il periodo in cui viviamo e qui vengono analizzati tutti gli aspetti tecnologici con video anche magari presi da YouTube che hanno a che fare con la tecnologia, molto spazio dedicato da parte nostra alla tecnologia e vi consiglio di andare a vederlo. Ci sono molte interviste soprattutto anche con personaggi del settore, un programma che ho fatto fino a poco tempo fa e che adesso ho trasferito su Facebook visto che Facebook è sicuramente una buona vetrina quindi qui non potrete trovare solo video ma anche tantissime interviste con gente del settore ecco questo è il busto web che comunque ha anche altre pagine ma diciamo in linea di massima le pagine principali che si tengono particolarmente aggiornate sono queste e spero di trovare la collaborazione anche di qualcuno di noi, di voi, perché no? Un saluto da Giorgio